E' vero, la Nocerina è ancora un cantiere, la vera partita si gioca a livello societario, è quindi normale che il match del Città degli Olivi contro il Bitonto sia per i campani solo un corollario di una sfida esiziale per la loro sopravvivenza. Ma resta intatto il merito del nuovo Bitonto, che mister Valeriano Loseto ha saputo plasmare, dandogli una identità e spingendolo fuori dalle secche della zona rossa fino al ridosso dei play-off. Prima frazione di gioco equilibrata, sino al minuto 42, quello in cui si sblocca il match, punizione di cardore, deviazione impercettibile ma decisiva della barriera rossonera, sfera che si deposita alle spalle di Stacos. I Molossi faticano a proporsi in fase offensiva, sì che hanno gioco facile, i padroni di casa a gestire il vantaggio. Sesto risultato utile consecutivo per i neroverdi, reduci peraltro dal derby vittorioso con il Gravina.